Domani, venerdì 14 luglio, il castello di San Terenzo aprirà le porte a residenti e turisti con la mostra del mostro 200 anni di Mary Shelley e del dottor Frankenstein. Il polo museale della Liguria, che tutela e valorizza il castello di San Terenzo, ha voluto rendere omaggio alla scrittrice inglese, ospitando all'interno della torre quadrangolare una serie di pannelli e attività principalmente rivolte ai bambini. La mostra rimarrà visitabile dal 14 luglio al 17 settembre, dal martedì alla domenica dalle 18 alle 23. Abbiamo preso a spunto i 200 anni della scrittura del libro di Frankenstein da parte di Mary Shelley, che ha abitato per qualche anno qua a Villa Magni, per poter riaprire il castello al pubblico, per poter dare un'occasione ai bambini che sono qua in villeggiatura, di poter conoscere sia questo personaggio che Mary Shelley. Con questa iniziativa di grande valore e qualità sarà possibile tornare ad aprire le porte al castello, un'apertura che rappresenta un valore aggiunto per il territorio, arricchito da un'esposizione che celebra il bicentenario di un evento che ha segnato profondamente la storia di San Terenzo e che ne sposa perfettamente le radici culturali. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa mostra e in collaborazione appunto con il polo museale, con il quale abbiamo intrapreso un rapporto veramente eccezionale, perché comunque insomma noi sentiamo il castello di San Terenzo come il nostro castello, quindi ci siamo dovuti trovare a gestire questa nuova situazione. La mostra è molto interessante perché innanzitutto è inquadrata perfettamente nella nostra idea di San Terenzo a livello turistico, che vediamo proprio con una realtà ampissimo respiro culturale e letterario, quindi questa è un'occasione eccezionale per ricordare appunto Shelley e il suo celebre libro Frankenstein. Il fatto che sia rivolto ai bambini è sicuramente un valore aggiunto, quindi toccare questa tematica della paura e della mostruosità in un modo giocoso sicuramente è una cosa anche a livello educativo, poi io sono un'insegnante, che abbiamo accolto con assoluto valore. Grazie ad Art Bonus infine sarà presto anche possibile accedere a un finanziamento di 40.000 euro, risorse che saranno investite per effettuare interventi di manutenzione al castello. Lo utilizzeremo per fare dei piccoli lavori, dei piccoli interventi di manutenzione, ma soprattutto per poter portare avanti dopo la metà di settembre altre iniziative, soprattutto sempre didattiche e culturali, per poter aprire tutto l'anno, soprattutto sotto fine settimana d'inverno, ma tutto l'anno il castello al pubblico.